Mr. Croft will never hang around! Mentre saluta una folla in disibilio, le sue parole al salutar Giffoni saranno Che delizia! Che meraviglia! Ritornerò! Tigri infuriate, occhi indagatori, cubi di Rubik, labbra a carnivore, rose di carta, sterminatori dal futuro. In un'atmosfera di caldo sahariano, il maestro Alberto Sordi, patrono del festival, assieme ad una scintillante maravenier, decreta i vincitori del grifone d'oro. Notiamo nel fortunato duo di cineasti una visibile emozione, difficilmente contenibile tra le sedi dell'arena.